Ciao a tutti ragazzi, io sono Coridan, ancora una volta ben ritrovati nel mio canale. Oggi vi voglio presentare Villainous, gioco a cura della Ravensburger, che ringraziamo di cuore per la copia e recensione che vedete qui davanti e che ci hanno fornito, questa volta a tema Star Wars. Villainous è un gioco che abbiamo già trattato sul canale, se vi ricordate, ce l'ho qui accanto, insieme a tutte le sue espansioni uscite finora, ed è rammentato ovviamente nei prodotti più famosi della Disney per la maggior parte. Ed è un gioco veramente molto veloce di carte, un semplice gioco di carte dove dobbiamo andare a piazzare le nostre armi, equipaggiamenti, ma anche alleati, cercando di andare a vincere la missione che abbiamo del nostro malvagio, infatti del nostro Villainous, ma soprattutto, apro una piccola parentesi, proprio come il Pandemic System, anche quello di Villainous si sono accorti che, in termini un po' videoludico, concedetemelo, è una perfetta sandbox e dove ci puoi ambientare praticamente qualsiasi ambientazione del mondo che, appunto, ti possa far calare nei panni di un cattivo, di un Villain. Quindi, ancora una volta, si vede un prodotto che viene adattato ad un'altra ambientazione rispetto alla principale da cui è nato. Ve ne parlo a breve, dopo la sigla. Villainous, in questa versione di Star Wars, come ripeto, gioco a cura di Ravensburger, è un titolo molto veloce ed è un titolo che abbiamo già visto in un altro video del canale. È un titolo veloce perché noi dobbiamo scegliere un cattivo che, in questo caso, in questa confezione, sicuramente poi faranno anche delle espansioni e cose del genere, però i cattivi che possiamo scegliere fra le varie ambientazioni dei nove film di Star Wars sono Darth Vader, il Generale Grievous, ovviamente delle Guerre dei Cloni, Asagi Ventress, o Asagi, non mi ricordo come si pronuncia, comunque Ventress, che è l'allieva, uno degli allievi del Conte Duku quando rivenne Darth Tyrannus durante la Guerre dei Cloni, il Moff Gideon, che abbiamo conosciuto nella serie di Mandalorian, e poi Kylo Ren negli ultimi tre film. Noi dovremo andare a scegliere un cattivo e ciascun cattivo avrà un obiettivo, tipo ad esempio, se non erro, Darth Vader ha come obiettivo quello di sconfiggere Luke. E seguendo appunto l'obiettivo, la missione principale del nostro cattivo, del nostro villain, noi dovremo fare di tutto per arrivare a quell'obiettivo. Il villain che raggiunge il suo obiettivo personale e lo finisce ha vinto la partita. Abbiamo una plancia, come proprio le meccaniche sono le stesse di Villenus, non è cambiato di una virgola. Abbiamo una plancia dove sulla plancia ci sono quattro location dedicate al cattivo, quindi che ne so, ad esempio, Darth Vader avrà la sala dell'imperatore, oppure il suo Star Destroyer. E una zona in comune su queste planche che hanno cinque location, quattro sono dedicate al personaggio, una invece è la location spazio-oscuro, perché praticamente siamo nel vuoto, siamo nello spazio, ed è quel punto dove si possono mettere veicoli, navi e cose per fare battaglie in larga scala. Villenus, come vedete, la plancia dal video ha una parte sopra e una parte sotto. La parte sopra per gli eroi e le carte che vi vengono giocate contro, la parte sotto per invece le carte vostre, equipaggiamente e quant'altro, prese dal vostro mazzo del malvagio, perché ciascun Villain ha un proprio mazzo personalizzato, quindi non si possono intrecciare le carte di un Kylo Ren con un Darth Vader, ognuno al suo, e la parte in alto invece viene pescata dal mazzo Fato sempre del Villain in questione. Quindi magari un Darth Vader potrà avere contro come eroe del Fato, quindi il classico personaggio buono che gli va a cercare di minare un po' il piano di conquista dello spazio, potrà trovare Yoda, potrà trovare Luke Skywalker, un Kylo Ren sicuramente troverà una Rey o un Finn, non si cerca di fare cross-era perché sarebbe anche brutto ad abbinirsi. Ciascun giocatore ha in mano quattro carte, da questa mano di quattro carte si deve, con la propria miniatura che tra l'altro sono riprodotta anche i Villain, sono fedeli e carine, molto molto evocative, all'inizio del turno dovrà spostarsi in una zona differente da quella dove si è spostata l'ultimo turno, e ciascuna zona delle azioni. Che ne so, pesca delle carte, gioca delle carte, potenzia un personaggio o attacca un eroe rivale, perché quando voi avete una zona bloccata da un eroe che un altro giocatore vi ci ha messo, voi le azioni di quella zona non le potrete più utilizzare, e dovrete per forza di cose schierare truppe o comunque l'abilità del vostro Villain o quant'altro, per andarla a mettere nella parte sotto vostra, nella stessa zona dove sopra vi ci hanno messo l'eroe, e a quel punto andremo a fare la conta della forza, perché ogni carta ha un tot di forza, se la forza sarà uguale o superiore a quella della carta che andate a combattere, l'avrete sconfitto e dovrete anche levare le carte. Quindi anche se fate un 5 voi e un 5 lui, l'avete sconfitto, ma anche le vostre truppe sono sconfitte in ugual misura. Le carte si acquistano spendendo dei punti fama, di cui se ne guadagna una a turno, quando il personaggio, il Villain, inizia a diventare molto più famoso, ovviamente attira a sé molte più truppe e possibilità logistiche, e poi ci sono anche i crediti stellari che andranno spese appunto per comprare altre carte. Come detto, è un gioco di strategia molto veloce, immediato, si sposta la pedina e si fanno le azioni che sono scritte nella zona dove capitate. Niente di più, niente di meno, e se la zona è bloccata, bisogna sbloccarla combattendo l'eroe o i nemici comunque che la vanno a bloccare. In conclusione, questo Villainous Star Wars è un gioco competitivo, non è assolutamente come Villainous normale, non è un gioco cooperativo, qui ciascuno ha il proprio Villain, e farà il possibile per minare i piani dell'altro e arrivare a fare la propria missione, perché il Villain, che arriva a completare la propria missione, ha vinto. Io ringrazio ancora una volta Ravensburger per la copia fornita, gioco veramente molto interessante, ragazzi, è veloce, immediato, regolamento di qualche pagina in più, magari anche una decina di pagine, però le assimile veramente con una lettura, divertente, veloce, e poi è bello che ci sono vari Villain, vari cattivi, ambientati in varie epoche di Star Wars, quindi quello che vi piace lo troverete, e sono sicuro che nel breve periodo vedremo uscire anche delle belle espansioni. Come sempre, se volete ordinarlo, primo link in descrizione, in sovraimpressione, dalla Gioco Libreria Semola, non soltanto al miglior prezzo sul mercato, ma se andate sul sito, bollino rosso, Villainous Star Wars è finito, oppure proprio non c'è in lista, mandate una mela al supporto a Corrado, al proprietario dello Gioco Libreria Semola, e fateli presente che arrivate dal mio canale, dal canale di Coridan. Lui non soltanto farà il possibile per trovarvelo, anche se è finito fuori catalogo, al miglior prezzo sul mercato, ma usate sempre il codice discount Coridan7, per avere uno sconto del 7% su tutti gli acquisti della Gioco Libreria Semola. E se superate la spesa complessiva, di giochi da tavolo, wargame, pitture, o qualsiasi altra cosa, di 79€, le spese postali sono gratuite in tutta Europa. L'ho ordinato e in 48 ore valeva a casa, ed è un servizio eccellente, perché riesce a trovarvi anche prodotti fuori dal catalogo, ovvio che non siano magari introvabili da 10 anni, quello consentitemelo, è impossibile anche per un negoziante, però anche se il gioco è finito, lui magari ne ordina qualche copia in più, per farvelo avere a casa. Ragazzi, se vi piace Villainous, io mi sento di consigliarvelo assolutamente di cuore, ed è, vi farà divertire al pari della versione base, se non avete mai provato Villainous, ma siete fan di Star Wars, è il momento per provarlo, perché è un gioco di carte, immediato, componentistica, veramente carina, e vi farà divertire, e vi farà calare, soprattutto nei panni di un cattivo, tra i più belli, della saga di Guerre Stellari, di Star Wars, che tanto adoriamo. Ciao ragazzi, alla prossima. Se questo video ti è piaciuto, lascia un like, e clicca sulla campanella, per essere sempre aggiornato, ricevere notifiche, e non perderti nemmeno un video in uscita. Primo link in descrizione, primi link che trovate, ricordatevi sempre di iscrivervi anche al canale Facebook, al canale mio di Live Twitch, alla mia pagina Instagram, e alla mia pagina TikTok, che sono sempre aggiornate, e su Twitch, mano a mano, troverete la programmazione aggiornata, con tutte quante le live del giorno, quindi guardatela sempre, perché ci sarà sempre la programmazione aggiornata. Mi raccomando, iscrivetevi soprattutto ai social, perché sono sempre aggiornati, e se devo comunicare qualcosa, anche per il canale YouTube, lo troverete sempre lì. Ciao, alla prossima.